La tecnica era sempre la stessa. Inserivano una carta prepagata nello sportello Bancomat, eseguivano un prelievo in modo che si aprisse la bocca dell'erogatore, nella quale i malviventi inserivano una forchetta che intrappolava il denaro dei prelievi successivi. I cittadini si arcavano al Bancomat per effettuare i prelievi, ma se ne andavano senza contanti, convinti che vi fosse un problema di malfunzionamento dello sportello. Con questo trucco tre cittadini romeni, tutti domiciliati a Torino, nel mese di dicembre hanno preso di mira tre sportelli Bancomat di Castel San Giovanni, procurandosi un bottino di 600 euro. Ad accorgersi della situazione e avvertire i carabinieri sono stati titolari di tre differenti istituti bancari. Le indagini sono partite dalla visione delle telecamere di sorveglianza, che hanno rilevato la presenza fissa dello stesso uomo che manometteva il Bancomat e dopo tornava sul posto per impossessarsi del denaro, accompagnato da un complice che lo attendeva in auto. Grazie ai controlli dei carabinieri è stata individuata anche una terza persona, alla quale erano intestate le carte prepagate con cui facevano i prelievi. Due romeni rispettivamente di 46 e 39 anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e danneggiamento di sistemi informatici, mentre per il terzo complice un loro connazionale di 34 anni l'accusa di favoreggiamento. Le forze dell'ordine stanno ancora compiendo accertamenti per individuare tutte le persone che sono state derubate. Per ora ci sono quattro denunce ufficiali. I cittadini che nelle giornate del 4, 5 e 11 dicembre hanno effettuato prelievi Bancomat non andati a buon fine, alla Banca Popolare di Lodi, alla Montepaschi di Siena e all'Istituto Unicredit di Castel San Giovanni sono invitate a denunciare l'accaduto ai carabinieri.